carlotta mantovan si svela la vedova di fabrizio frizzi a oggi parla della sua esigenza di rinascita e del bisogno di guardare avanti concorrente di ballando con le stelle al dancing show ha riscoperto il piacere del gioco che il dolore si era portato via in una lunga intervista rivela pure perché ha scelto di trasferirsi oltre alpe quando le si domanda delle ciglia finte indossate per le performance a ballando la 41 n sottolinea il suo bisogno di leggerezza dopo la scomparsa del marito a marzo 2018 dal conduttore ha avuto la figlia stella 10 anni ricominciare da sola dopo 16 anni non è stato facile fanno parte della mia esigenza di rinascita del bisogno di guardare avanti di divertirmi e divertire e soprattutto di riscoprire il piacere del gioco che il dolore si era portato via spiega carlotta in tv la mantovan vuole portare avanti l'idea che anche una persona che ha sofferto possa e debba tornare a sorridere ma tenendo a mente le sue priorità in primis la serenità di mia figlia stella ha un sorriso aperto gioioso e merita di essere una bimba felice la mia priorità è prepararla alla vita con uno spirito di apertura verso gli altri non ha superato il dolore non si supera lo si porta con sé per quanto mi riguarda concentrando ogni singola energia su mia figlia il dolore mi ha sensibilizzato maggiormente non mi ha indebolito anzi mi ha fatto riscoprire le piccole gioie del quotidiano quelle che diamo per scontate la bambina assomiglia al padre ha lo stesso sorriso la stessa affabilità la stessa gentilezza e sensibilità lei è veramente il meglio di noi due carlotta la portata in francia faccio una vita molto semplice sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della francia a pieno contatto con la natura dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta correndo tra i prati la giornalista e conduttrice ha scelto di allontanarsi dall'italia per il suo grande desiderio di serenità lontano dai riflettori mi dedico a dare una mano agli abitanti del villaggio cerco di fare cose utili come la raccolta di fondi per la scuola e per le esigenze anche le più elementari della comunità pensi che è un posto dove si fa ancora il pane al forno e lo si condivide si cucina per tante persone si fanno lunghe passeggiate si organizzano eventi gastronomici e sportivi una vita molto basica ogni tanto faccio anche qualche gara con il mio cavallo ha trasmesso la passione per l'equitazione anche a stella